Perché riassumere il grande Mazinga prima di Mazinga Z visto che è praticamente il capitolo successivo? Beh, perché mi piaceva di più. Tokyo, fortezza delle scienze. Il dottor Kenzo Kabuto, figlio di Yuzo, costruttore di Mazinga Z, deve salvare la Terra dall'attacco di Michenes, antico popolo greco dei micenei che dopo aver passato non si sa quanti millenni nelle viscere della Terra, hanno deciso di prendersi il nostro pianeta con un upgrade mica male. Essendosi parecchio indeboliti, si affidano a corpi meccanici, c'è chi diventa generale, chi soldato, chi mostro guerriero. A capo di tutti c'è l'imperatore delle tenebre, che non è un mostro di strategia, o meglio, un mostro lo è, stratega un po' meno, visto che sarebbe bastato prendere tutti i mostri possibili immaginabili, scagliarli tutti insieme contro la fortezza delle scienze e tanti saluti ai suonatori. E invece no. Con una chirurgica insistente caparbietà, il capo dei malvagi manda uno, massimo due, tre, via, voglio rovinarmi, mostri per volta, per cercare di distruggere la fortezza, ultimo baluardo per l'umanità. Il dottor Kabuto, in gran segreto, aveva però costruito a suo tempo un'arma micidiale, il grande Mazinga, versione migliorata di Mazinga Z, e del quale si differenzia tra le altre cose per via delle cornine, del boomerang e del fatto che può volare. A guidare quest'arma formidabile c'è Tetsuya, giovane, orfano, dal carattere determinato, vestito prepotentemente anni 70. Beh, siamo negli anni 70. E con due basette che fanno provincia. Lui è il pilota del Brian Condor, che si staglia imperioso nel cielo prima di agganciarsi al grande Mazinga che viene sparato fuori dagli abissi nei pressi della fortezza delle scienze. Ad Aremanforte, per modo di dire, comunque a compartecipare alla lotta, c'è June, bella da togliere il fiato, anch'essa orfana e con una storia travagliata alle spalle, fatta anche di razzismo per via della sua pelle scura, e che lei in un episodio cerca anche di rendere bianca strofinandola con il sapone. June, a bordo della Regina delle Stelle, che si aggancia con una manovra che manqua Gardaland sul blu tornado, è la pilota di Venus Alpha, robot dalle fattezze femminili e dall'espressione cangiante, che lancia raggi fotonici dagli occhi, spara seni esplosivi, si stacca le dita. Ah sì, poi c'è anche Boss Robot, la parte comica della serie, con questo robot che viene tecnicamente sempre fatto in mille pezzi. I malvagi sono una valangata, i nostri eroi li flambano tutti a poco a poco. All'inizio c'è la fortezza Micheros, questa specie di roba rotante, piena di facce. Dentro, oltre ai tizi con l'elmo a teschio, ci sono i vari generali che conducono le operazioni, ognuno con le proprie caratteristiche. Ad esempio, per i mostri umani c'è il generale Yuri Cesar, che è un riferimento a Giulio Cesare. Oppure per gli insetti Scarabet, per i rettili draiato e via dicendo. In più c'è il duca Gordon, che una volta ucciso viene sostituito dalla spaventosa Marchesa Janus, quella che quando il gatto mi aggolava girava la faccia e ci faceva crepare di paura. Tra gli scontri più epici sicuramente quello con il generale Nero, il capo di tutti i generali, che dopo essere stato trafitto dalla spada di Mazinga, si cummiata con la famosa frase. Io voglio soltanto un inno per un uomo valoroso che mi aiuti a sopportare le torture dell'inferno! Torna anche il dottorel, che si credeva schiattato in Mazinga Z, in realtà ora è un cyborg e si chiama con un nome dolcissimo. Gran maresciallo del demonio! Cambia pure la base, visto che Micheros viene sostituita da Demonica, che a me sembrava sempre una scrofa volante. E via altri attacchi, con mostri che diventano sempre più potenti. Mazinga Venus non riescono a contrastarli e proprio quando tutto sembra perduto, ecco che torna Mazinga Z con Koji Kabuto. All'inizio Tetsuya, prima donna isterica, entra in competizione con lui, ma alla fine sarà l'unione della forza di due Mazinga, aiutati da Venus e Diana, il pilota femmina pilotato da Sayaka, a distruggere anche Demonica e tutti gli occupanti. Il tutto però, non prima di aver avuto l'aiuto decisivo del dottor Kabuto, che fatta evacuare la base, la fa alzare in volo e si lancia con un gesto suicida contro la nave nemica, aiutando i figli, veri acquisiti, e contribuendo a salvare l'umanità. Grazie Kabuto!